Anche Re Carlo avrà le sue sterline. Lo ha anticipato la Banca d'Inchilterra durante l'annuale manifestazione dei Future of Money nella sede del Museo della Zecca Nazionale Britannica. Una decisione che arriva tempestiva e che suona anche come una forma di sostegno e solidarietà da parte delle istituzioni inglesi al nuovo monarca che si trova in un momento delicato per un problema di salute a causa di un tumore. Le nuove banconote con il volto stampato del re appariranno sui tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. L'Istituto Finanziario Centrale di Londra ha annunciato che saranno in circolazione dal 5 giugno prossimo. Carlo è il secondo monarca in assoluto ad apparire sulle banconote inglesi da quando la Banca d'Inghilterra nel 1946 fu nazionalizzata. Ma le sterline raffiguranti la regina Elisabetta II resteranno comunque valide. Dal 5 giugno le nuove banconote rimpiazzeranno quelle usurate e soddisferanno in futuro un qualsiasi aumento della domanda. Ma le precedenti non saranno ritirate. Sul lato principale delle nuove sterline apparirà Carlo ma il retro continuerà a raffigurare come in passato altri personaggi celebri nella storia del Regno Unito come l'ex primo ministro Winston Churchill sulle 5 sterline e la scrittrice Jane Austen sulle 10 sterline.